Dal 2018 al 2023 in Italia 20 donne su 100 tra i 16 e i 70 anni hanno subito violenza fisica. 3 donne su 100 sono state vittime di stupro e quasi 4 donne su 100 sono state vittime di tentato stupro. Questo significa che solo in Italia 6 milioni e 200 mila donne hanno subito violenza fisica e che 1 milione e 240 mila donne sono state vittime di stupro in soli 5 anni. Nel 2023 le denunce per maltrattamenti da parte di familiari e conviventi sono state 24.474, l'81% delle quali erano donne e lo stesso anno le vittime che hanno denunciato violenza sessuale sono state 6.062, il 91% erano donne. In Italia del 1 gennaio al 30 giugno ci sono stati 141 omicidi volontari, 49 vittime erano donne, uccise da familiari partner o ex partner solo perché donne. I dati ISTAT del 23 gennaio 2024 dimostrano che dal 2002 al 2023 le vittime di omicidio volontario sono diminuite drasticamente ma i femminicidi no. I dati rimangono invariati, a volte aumentano pure. Non sentiamo mai parlare di maschicidio perché quando a uccidere è un partner o un ex partner, in 9 casi su 10 la vittima è una donna. Nel 2023 sono morte 120 donne, solo in Italia, circa una ogni tre giorni, mentre 5 sono le donne che in media ogni giorno cercano di denunciare violenza o stalker da parte di un partner o un ex partner. Nella settimana dal 21 al 28 ottobre 2024 i femminicidi sono stati 4. Non sono numeri, sono donne morte la cui unica colpa era essere donne. Lo sapevamo già tutte, è esattamente quello che pensiamo ogni volta, ogni volta che una donna muore e si scopre che è stato un femminicidio. Potevi lasciarlo prima? L'hai provocato? È un bravo ragazzo, non lo farebbe mai. Nessuno ti crederà. Ma com'è rivestita quando è successo? Se mi lasci, ti uccido. È questo quello che ci viene detto, quello che ci viene ripetuto ogni volta. Perché le azioni degli uomini, secondo la società, sono sempre colpa nostra. Non è vero che lui cambierà, non è vero che non ti colperà più e non è vero che è colpa tua perché lo hai fatto arrabbiare. Non è amore questo, è violenza. E ogni volta che qualcuno ti dice come vestirti, cosa mangiare, che frequentare, che salutare, ogni volta che qualcuno ti tocca senza la tua volontà, ogni volta che qualcuno vuole farti credere che senza di lui sei nessuno, è violenza, non è amore. Deve essere l'ultima, abbiamo detto dopo la morte di Giulia Cecchetti il 11 novembre 2023. Sono stati 113 i femminicidi da quel giorno. Non è cambiato nulla, eppure avevamo detto che sarebbe stata l'ultima. Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Brucia ogni cosa. Se domani tocca a me, mamma, voglio essere l'ultima.